Maggiori controlli stradali, limiti di velocità, interventi per migliorare la viabilità, maggior consapevolezza del pericolo e quindi più prudenza. Sono tante le ragioni che possono aver concorso a far diminuire il numero degli incidenti stradali, ma soprattutto dei morti. Il 2011 si chiude con 50 morti sulle strade della Granda, un dato pesante, ma il più basso degli ultimi 12 anni, dal 2000 ad oggi. Il minor numero di vittime della strada di sempre, una vittoria senza dubbio, si era affrontata alle oltre 100 vittime annue che ancora pochi anni fa pesavano come un macigno sulla nostra coscienza collettiva, ha dichiarato la presidente Gianna Gancia, che ha continuato. Un risultato però al quale non bisogna rassegnarsi mai se pensiamo che al di là del dato statistico e dietro questo freddo numero ci sono altrettante tragedie, altrettante vite spezzate, famiglie disperate, drammi irreversibili. Mi sento di esprimere un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito al miglioramento, ha detto la presidente. Alle forze dell'ordine, certo, ma anche al mondo della scuola, al volontariato e alla società in genere, che nella nostra provincia hanno favorito il crescere di una nuova coscienza civile. Per lunghi anni la nostra comunità ha avuto tassi di mortalità pressoché doppi rispetto alla media nazionale. Oggi si inverte la rotta, bisogna andare avanti su questa strada per estirpare dalla radice questa piaga disumana. I dati sulla mortalità stradale nella Granda dal 2000 ad oggi hanno superato il triste primato dei mille morti in 12 anni. Le vittime sono state 122 nel 2000, 115 nel 2001, 116 nel 2002, 2003, 105 nel 2004, 83 nel 2005, 71 nel 2006, 78 nel 2007, 72 nel 2008, 59 nel 2009 e 68 nel 2010. Il bilancio delle vittime a fine 2011 conta appunto 50 morti, 4 i decessi nel mese di dicembre. Si tratta del dato più basso negli ultimi 12 anni e tra le cause principali delle morti ci sono l'estensione geografica del territorio e l'assenza di grandi centri, causa di spostamenti per lavoro, salute, istruzione e divertimento. Prevenzione e repressione sono stati gli strumenti per combattere il fenomeno, oltre agli interventi sulla viabilità, con adeguamenti delle intersezioni, realizzazione di piste ciclabili, potenziamento della segnaletica, interventi con asfalti ad alta rugosità.